Applausione subito a questi apripista, ecco di qua, le passano su questi supersalti, molto molto diffusi, e il Bicciaio, sono in tre del Bicciaio a inseguire l'atleta dell'Onciate Comasco, quindi tre compagni di team che si fanno forza l'uno l'altro per andare a inseguire il 179, travi Tommaso e dietro i Bicciaio, Girlandi Alex, Biffi Michael, Villa Massimiliano, sono loro che ormai affrontano la penultima linea e la quarta in precisione, parabolica a sinistra e ingresso nell'ultima linea. E ancora apripista, passerina Mattia, Lancer Peter, Gaffè, Andrea, Rossi, Stefano.